Ciao a tutti, ben arrivati o bentornati sul canale, secondo che siate vecchi o nuovi iscritti lo dico spesso perché tanti nuovi arrivi, grazie quindi a chi c'è da tempo, grazie a chi è arrivato ma oggi, chiacchiere, sapete che ogni tanto faccio video, chiacchiere, parlo, parlo del nulla, parlo random, sistemo luci oggi appunto ho il giorno libero, quindi mezzamattina e quindi volevo parlare, parlare a ruota libera di cose allora innanzitutto saldi, sono andata a fare un giro, ragazzi, ho preso il niente praticamente perché, come molte di voi sanno, mi sto concentrando sul raggiungimento di piccoli obiettivi economici di acquisti un po' più importanti, che mi sono resa conto nel tempo che avevo tralasciato tipo appunto, vi ho fatto due balls così, il condizionatore, se nei mesi precedenti mi fossi lasciata andare diciamo a troppe spese fuori programma, non ci sarei riuscita Milano, me lo chiedete spesso, sì, è una città molto cara, vivo da sola, quindi pago da sola le bollette l'affitto tutto quanto, e non ho aiuti di sorta, ovviamente, per cui non è semplice mandare avanti la baracca a qualcosa, bisogna rinunciare se si vuole avere qualcos'altro quindi ho, diciamo, un po' messo su una sorta di piano di risparmio che più che privarmi di cose che mi piacciono prevede il fare attenzione a non spendere in quelle cavolate che mi rendevo conto facevano buttare via dei soldi senza che fossero veramente per me un feedback utile, necessario e di benessere perché non ho intenzione di fare come quelle persone che si privano di tutto per poi vivere 15 anni di vita sociale rovinata e di vita proprio di privazioni di qualsiasi cosa e poi dopo si trovano un gruzzoletto, ma piccolissimo, peraltro con cui fare quasi niente, secondo me quindi non sono molto d'accordo con questo tipo di gestione del denaro per quel che riguarda la mia vita non mi voglio privare se vedo una cosa che mi piace veramente tanto di comperarmela una volta ogni tanto ma voglio tagliare, per esempio, quelle spese che a mio avviso e questa è una cosa molto molto personale considero, se ci faccio un attimo di attenzione razionale, inutili per cui, per esempio, faccio un esempio non prendo più il caffè al bar perché, sinceramente, io il caffè al bar nemmeno lo amo mi piace molto di più il Nescaffè però a volte, un po' perché mi dimenticavo di prenderlo a casa un po' perché non me lo portavo dietro a lavoro questo parlo di più di un anno fa mi ritrovavo a riprenderlo per strada è un caffè oggi, un caffè domani, due caffè al giorno tipo almeno due caffè al giorno per 30 giorni, fate voi, due per tre sono 6, 60 euro al mese di caffè che non mi necessitano che proprio non me ne può fregare di meno, capite? oppure non compro più l'acqua in giro prima di uscire, sincero, di avere il mio mezzo litro minimo d'acqua nella borsa invece che andare nei bar, 2,50 qui, 1,50 lì e buttare via soldi in acqua e comprare ancora plastica mi sono fatta i miei contenitori dell'acqua sapete, ho preso la borraccia di Lidl e vado così quindi, cioè, ho tagliato quelle cose che mi sono resa conto a me non interessavano non mi è cambiata la vita non vivo in ristrettezze perché mi porto l'acqua da casa e non bevo il caffè al bar mi ero resa conto che era non buttare via dei soldi stessa cosa non mi privo di fare shopping quando trovo veramente qualcosa che mi piaccia e che voglio comperare avete visto, ho fatto, per esempio in occasione del mio viaggio alla Spalmas c'era una motivazione sociale umana carina che mi portava a fare shopping ossia andare a fare shopping con la mia amica andare a fare shopping con Vittoria che non lo facevo da un anno e quindi era una qualcosa che mi dava un po' di più dell'oggetto in sé, capite? era l'uscire con l'amica il guardare le cose insieme e comperare qualcosa allora in quel caso era diverso, capite? ho comperato l'oggetto ma ho vissuto il momento e anche quest'anno quando andrò per i saldi se vedrò qualcosa che veramente non ho nell'armadio e veramente mi serve la comprerò senza farmi troppi patemi però per il momento ho adottato un po' questa filosofia della maggiore riflessione ecco non della rinuncia ma della maggior riflessione e soprattutto del taglio di cose di cui non mi frega assolutamente niente per cui insomma saldi quindi ho preso poche cose ve le faccio vedere ho preso tre tracolle in sostanza perché ritenevo fossero delle cose che mi servissero e quindi ve le faccio vedere allora avevo già diciamo avuto l'idea che mi servisse un qualcosa del genere quando sono andata da Vittoria solo che lì essendo a casa sua e avendo a disposizione comunque lei che poteva nel caso prestarmi qualche borsa non mi sono fatta particolari problemi però mi sono resa conto che non avevo una tracollina di quelle da viaggio da infilare nello zaino o nel trolley consentito come bagaglio a mano e sapete che non potete portare neanche una tracollina separata dove deve essere tutto stipato dentro il vostro bagaglio di viaggio io in quest'estate ho prenotato un viaggio con Ryanair e porterò solo lo zainetto badate bene neanche il trolley da cabina per cui avevo dovuto pagare una giunta di 12 euro a tatta ma facendo 5 giorni quindi 4 notti fuori sinceramente essendo estate e non avendo quindi necessità di portarmi capotti maglioni così partendo già con indosso visto che in aerico fa un freddo cane una felpa e il giubino di jeans per eventuali freddo freddi che io posso incontrare giornate fredde che io posso incontrare nella zainetto insomma una volta che metto 3 magliettine 2 vestitini sono a posto in pratica però devo infilarci una tracolla e infatti vi ho fatto vedere nelle 6 dori manie questa borsina che è quella che ho preso da carpisa che siccome questo è uno dei miei colori preferiti l'ho presa anche in azzurro ma poi se sono tornata l'ho presa in nero in azzurro non l'avrei presa cioè non ne avrei comprato due se non l'avessero fatta azzurra essendo l'azzurro celeste così un colore che io adoro e avendo io una pellicetta invernale a questo azzurro polveroso ho detto no vabbè questa la devo assolutamente prendere perché questo è uno dei miei colori preferiti ve l'ho già fatta vedere nelle 6 dori manie è questa borsina con tutte le tasche 7 ne ha addirittura e dentro ha anche un portafoglio con vedete la zip per i soldi e il portacarte è bellissima a mio avviso costa 10 euro ma ne costava 23 quindi è veramente super scontata e l'ho presa subito ha addirittura anche una taschina posteriore oltre alle 7 interne e questa tracollina appunto in questo nella stessa cioè non a catenella che in viaggio non è stracomoda la catenella è fashion ma non è stracomoda quindi l'ho presa azzurra perché seconda insomma a seconda di dove uno va e di quanti giorni resta può anche organizzarsi un guardaroba per la vacanza che ci stia bene però siccome il nero è sempre quel qualcosa che insomma è una garanzia l'ho presa anche nera sono tornata perché all'inizio avevo detto ma no dai lascio stare e invece ci ho riflettuto e ho detto no Silvia prendila anche nera perché è d'inverno o comunque se non hai voglia di portare un guardaroba adeguato perché magari uno sta più tempo non è che puoi fare 15 giorni sempre abbinato all'azzurro magari si porta il nero è risolto col nero il portafoglio dentro è rosa cipria vabbè a parte che sono intercambiabili ma poi chi se ne frega del colore dentro la trovo una dritta pazzesca loro la vanno come portafoglio tracollina in effetti è quello che gli americani credo gli inglesi chiamano wallet in chain un borsellino con la catena insomma che questo non è una catena ma è una tracolla quindi mi sono comprata queste due e proprio lo ritengo un acquisto oculato che mi serve nel caso di viaggi vacanze eccetera per portare una borsa e basta invece questa l'ho presa più che altro proprio per la città avevo una sola borsina low cost nera ma l'ho smontata facendo le promozioni in rinascente facendo le giornate appunto promozionali e me ne serviva una nuova che fosse carina ma piccolina nera appunto nel caso anche questa da mettere in valigia laddove l'evento fosse un evento magari un po' più fashion ma io non voglio portare magari la mia borsa di Miu Miu perché ho una tracollina molto bella di Miu Miu ma per un motivo o per l'altro per esempio se devo lasciare i bagagli in macchina vado in sbattimento ho paura che mi aprano la macchina per vari motivi insomma mi è capitato nel tempo di volere una tracollina da mollare insomma senza troppi patemi la cosa bella è che ha una catena bella pesante l'ho presa per questo perché di solito le borse chip hanno queste catenelle inconsistenti questa è una catena che sembra di borsa costosa è proprio pesante è molto carina semplicissima vedete sono due robini due scomparti diciamo cuciti insieme al centro c'è la catenella con questa trapuntatura l'ho presa da talli e non ha nessuna scritta cosa che io adoro l'ho pagata 9,99 e costava 19,99 quindi metà prezzo anche questa nera quindi tre tracolline e basta poi in realtà nel giorno in cui sono andata a fare un giro per i saldi sono incappata in come si chiama hobby casa no happy casa non me lo ricordo adesso ve lo dico perché ho lo scontrino e ho preso delle cose per la camera in realtà ho preso delle cose che voglio un po' cambiare le cosine che ho qua sul tavolino per due motivi un po' perché è carino che si vedano nel video e faccio anche io la youtuber che ha il tavolino figo ma soprattutto perché quel tavolino lì voglio che sia sempre sgombero quando in realtà non ci posavo niente finivo per buttarci sopra la roba e diventavo un mucchio in forme di roba non piegata e quindi da quando invece ci metto tutte le cosine da un aspetto più carino più ordinato alla stanza e sono dissuasa dall'avere questo roba sempre pieno se poi mi serve il tavolino quando per esempio piego la roba per metterla nei cassetti perché io non stiro ve lo dico tiro giù giusto quei due tre soprammobilini e ho il tavolino libero vi faccio vedere che cosa ho preso allora intanto si chiama happy casa ed è quello che c'è nel centro commerciale nel nuovo centro commerciale di San Giuliano Milanese inviato il Stoi ho preso allora varie cosine intanto ho preso due piantine grasse finte perché dentro casa ho notato che non arriva abbastanza luce e le poveracce crepano per cui ho tutta la mia collezione di cactus all'aperto nel davanzare della cucina ma per casa ho preso queste qua finte che sono molto ben fatte come vedete e le ho pagate aspettate piantine cactus con vaso 1,99 l'una quindi ne ho preso una fatta in questa formina qua e l'altra così con questi bones sembrano le crocchiette sulla testa mi era molto simpatica e le ho prese per metterle no vabbè ma questa è rotta è sbeccata eh vabbè non l'ho visto si vede poco vabbè è sbeccata qua qua vedete vabbè si vede poco comunque non ho voglia di andare a cambiarla ho preso questo robino qua sarebbero tipo sapete le ciotoline per mettere le olive con le robe lì che non le userò mai per fare ste robe i party a casa mia non li faccio la casa è troppo piccola in realtà sarà così la questione la trovo bellissima questo aggeggio questo aggeggio qua per mettere i cactus l'ho pagato 3,99 tutta la questione rotta me la dovevano scontare poi ho pagato invece il vassoio 2,99 questo vedete il vassoio tipo un vassoio svuota orologio queste robe qua in realtà sarà peraltro ma quindi l'abbinata è questa vedete il vassoio potrei fare anche così volendo ma mi sembra c'è già il vassoietto di legno però è carino insomma come svuota orologio svuota tasche anche se non è all'ingresso di casa però per metterci i gioielli che porto vedete macro poi cosa ho preso ho preso una lanterna sempre in stile con le cosine che ho preso sempre con disegnate le foglie dove dentro metti la lanternina la candelina e vedete mi piace tantissimo l'abbinata si può anche fare così quindi questa abbinata così che mi sembra molto carina ultima cosa ho preso queste due robe la freschezza di lavanda è la freschezza di argan profumatori per ambienti che non ho ben capito si possono praticamente mettere in quelli dei termosifoni nei robi dei termosifoni che io non ho perché ho riscaldamento da pavimento negli umidificatori e io però li voglio mettere nelle cosine con sotto la candelina diffusori di essenze provato questo diluito con acqua non si sente niente ragazzi come mettere l'acqua adesso io non so se ho messo troppa acqua quindi proverò magari a metterlo con meno acqua e vedere un po' come viene la questione insomma quindi queste mi piacciono tanto proviamoli qui voilà ovviamente toglierò queste altre robe insomma la loro destinazione è lì su quel tavolino poi ho preso qua sotto ce l'ho eccolo qui questo telo alredo ragazzi questo telo alredo è bellissimo io ho letto una piazza e mezzo quindi è 150x200 e praticamente copre perfettamente tutta la superficie del materasso cioè non si rimbocca ma il mio letto è tipo un tatami perché è posato sul legno e questo telo è bellissimo leggermente etnico come diciamo concezione ma è veramente di un cotone buonissimo è fatto proprio fuori dall'unione europea quindi secondo me è una roba che proviene tipo da paesi asiatici perché somiglia proprio a quelle robe che almeno a Cagliari vendono nel quartiere dove ci sono i ragazzi pakistani che vendono tutte le robe insomma fatte nei loro paesi è bellissima è una coperta un copriletto veramente molto bello che io adesso metterò a lavare con le frange vedete le frange finali e lo trovo veramente stupendo soprattutto per il periodo in cui adesso insomma arriverà l'autunno adesso proprio in questi giorni no perché c'è un caldo boia però vi assicuro che col condizionatore qualche volta lo tiro su ha un odore terribile nel senso che sa proprio di polvere e di conservato quindi lo metterò subito a lavare immediatamente ma è molto bello ha veramente un odore terribile l'ho messo subito a lavare va bene e basta questo è tutto praticamente non ho fatto shopping ho fatto un titolo clickbait dove vi ho detto saldi o qualcosa perché lo metterò un titolo clickbait perché così il video fa più visualizzazioni scherzo comunque qualche cosa di saldi la farò perché l'ultima settimana di luglio sono a casa quindi un giro me lo faccio ma con più oculatezza perché lo shopping nel mio armadio mi sta dando grandi soddisfazioni per esempio oggi ho rispolverato questi orecchini stupendi che non mettevo da un sacco di tempo e che col cappello così raccolto è con ragazzi vi faccio vedere venice credo no london london di paola p che è il rossetto che porto il numero 19 questo qua ci sta da dio vedete ho abbinato gli orecchini al rossetto stupendi e poi ho ritirato fuori questo abitino che non mettevo da una vita di zuiki che ha questo sapore vagamente etnico che vedete ha anche un po' ve lo faccio vedere so proprio indossato vedete ha queste tascone così queste questi boh che ne so questi robi così e questa specie di finta collana ma sapete che avevo anche pensato di darlo via anni fa e invece casca così bene è così carino e maschera un po' le forme inesistenti in sostanza che ho deciso di tenerlo e poi mi piace perché copre il mio osso detestato vedete questo che non si vede io mi sento molto molto più a mio agio quindi per esempio questo è uno shopping riciclato dal mio armadio per cui se non avete visto il video anti decluttering lo shopping nel mio armadio eccetera le idee di riutilizzo delle cose che magari non buttate niente insomma per farvela breve comunque ve lo lascio ve lo lascio qua in scheda il video così vedete un po' se vi piace l'argomento basta ragazzi questo è quanto io vi mando un bacio ci vediamo domani con un altro video ciao ciao